Tanto legno. Un illusionista che aveva preso in mano l'orologio di mio marito gli disse che vedeva intorno a lui tanto legno il giorno in cui sarebbe morto un papa che poi fu Paolo VI. Qualche mese dopo mio marito è morto a cosse in apnea mentre eravamo in viaggio di nozze in Grecia. Per avere la bara in Italia ho dovuto farmi raccomandare dall'addetto militare ad Atene. Perché? Commento. Perché l'illusionista era un veggente che si era legato al futuro in cui erano rappresentati tuo marito e il papa nell'eterno presente. Grazie a tutti.